Un caffè che vale espresso scende moca sale Nella possibilità di poter cambiare anche la propria vita Anche quando per troppe mattine era sempre uguale Con un furgone, dei pacchi da consegnare E quasi la certezza che non sarebbe potuta cambiare Invece è cambiata e è cambiata anche tanto Di questo parliamo oggi Nel raccontare la storia di Fabio Parliamo soprattutto della possibilità di cambiamento E di rottura di schemi e pregiudizi Che sono uno dei match che questa trasmissione prova a fare di più Perché il successo e la ricetta verso il successo Presuppone questo Peccato che sia una cosa non semplice da fare Bisogna essere umili, farsi aiutare Giocare più di squadra Che sono quelle cose che nel nostro paese Sappiamo fare un po' di meno Restate con noi dopo la sigla La grande storia di Fabio Bollini Un caffè che vale espresso scende moca sale Serve a farci avere quella marcia in più Un caffè che vale senza esagerare Serve a questa Italia per tenersi su Un caffè che vale Rito nazionale È un caffè che vale grazie a te Ed eccoci pronti per servirvi un nuovo caffè Ogni giorno uno Ve ne ho promessi 150 in quest'anno Ed è un lavoro che stiamo facendo per connettere l'Italia che vale Per questo si chiama un caffè che vale Io ho sempre creduto che c'è un valore in Italia che non è espresso Che non è raccontato E quindi sto dedicando buona parte della mia vita Proprio a lavorare sul concetto di narrazione Di racconto perché sono convinto che se capiamo di più le cose se ci mettiamo la faccia possiamo fare la differenza Oggi vi serve un'altra storia straordinaria Mi piace ogni giorno andare a pescare su storie anche molto diverse fra di loro E andiamo a rompere anche qui altre idee, altri schemi che si sono via via strutturati in Italia Una modalità di lavoro che si chiama network marketing Che di fatto dà da lavorare a tantissime persone Ha cambiato la vita di altre tante persone Non senza impegno, non senza lavoro Come per tutte le modalità di lavoro C'è chi interpreta un metodo nel modo giusto C'è chi lo fa nel modo più sbagliato E per questo ho voluto con me oggi uno dei personaggi di maggiore successo Che è una storia anche bella, credibile Che davvero voglio raccontarmi E con me è Fabio Bollini Ciao Fabio Ciao Piero, è un piacere per me essere qua Fra un po' torneremo all'origine, al punto di partenza Intanto però parliamo di oggi Il network marketing chiaramente al centro ha un prodotto Ed è il primo pezzo di credibilità sta proprio nel prodotto Ecco cerchiamo di capire il settore in cui operi Cosa ha al centro come prodotto Sì, io Piero lavoro in un'azienda che è nel mercato della nutrizione Il network marketing si presta particolarmente bene Per lavorare con dei prodotti non durevoli Quindi che una volta consumati si possano ricomperare anche a livello abbastanza temporale breve, quindi mensile Abbiamo lavorato cinque anni per un'azienda di nutrizione E quindi che faceva dei sostitutivi pasti Come ce ne sono altre Adesso siamo stati acquisiti da un'azienda americana Un colosso americano che oltre a prodotti di nutrizione Ha inventato una nuova tecnologia Che è quella dei chetoni esogeni Quindi sempre ambito fitness, salute e wellness Ed è importantissimo avere un valore aggiunto Altra caratteristica a proposito di valore aggiunto Che i prodotti fanno una promessa Tutti i prodotti Ecco che promessa fa il vostro prodotto Noi siamo famosi per aver introdotto anche un modo diverso di venderli Che è quello attraverso una challenge, una sfida Abbiamo introdotto il marketing della challenge in Italia Con la sfida dei 90 giorni E chiaramente la promessa è quella Alla fine dei 90 giorni di avere un corpo diverso Quindi incide sulla perdita di peso Che chiaramente oggi ha un'aspettativa grande Che è cresciuta semmai nel tempo E sul piano invece della salute Perché sai le due cose devono stare insieme Le due cose stanno insieme Sono altamente correlate E noi vediamo i nostri pasti O appunto i chetoni come cancello di ingresso Per il cambiamento di uno stile di vita E chiaramente la salute è anche una parola Molto difficile anche da pronunciare oggi Per cui noi ci limitiamo a dare una promessa Di perdita di peso Seguendo sempre dei claim aziendali E chiaramente come ti dicevo prima Noi cambiamo proprio lo stile di vita delle persone È impensabile attribuire a un solo prodotto Un risultato per il lungo termine Quindi benessere e stile di vita in primis Senti l'Italia soprattutto nell'area food Siamo al primo posto nel mondo Intanto è difficile cambiare le abitudini Di rispetto al cibo Di approccio al cibo che hanno gli italiani Proprio perché c'è una componente anche emotiva Che è molto forte E però nello stesso tempo ecco c'è Ci può essere anche lì già un pregiudizio Rispetto a qualcosa che arriva dall'America Almeno in quest'ambito In che modo siete riusciti a Come dire A chiarire che invece il prodotto È un prodotto ben fatto E che fa bene alla salute Confermo le tue aspettative Cibo in Italia è cultura Vuol dire molto di più di alimentarsi E all'inizio non è stato facile Perché c'erano tanti pregiudizi Per fortuna Il fatto di rompere i pregiudizi iniziali L'aveva già fatto un'altra azienda per noi Una nostra grande concorrente Tra l'altro è l'ultima che ci manca da superare Con le storie Abbiamo vinto con le storie delle persone E oggi la necessità che c'è Di stare in salute e in benessere È molto alta Quindi a un certo punto Una persona si trova davanti a una scelta Continuo a fare quello che è cultura O cambio per i miei risultati Guarda un ospite che mi dice Abbiamo vinto con le storie Mi rende felice Quindi cambia già l'energia dell'intervista stessa Perché è una cosa davvero che dico Da tanto tempo Anche agli imprenditori Parlate con quello che fate E soprattutto con come lo fate Piuttosto che con titoli di studio E cose di questo tipo Quindi sono felice di averti sentito dire questa cosa Con la comunità scientifica Come siete messi Io provoco un po' Ma lo faccio perché Cerco di interpretare Le meglio domande Che possono arrivare dall'altra parte Grazie A me fa piacere Ed aggiungere che Vendevamo qualcosa Che aveva un pregiudizio In un sistema Che ha pregiudizio Che è quello del network marketing Quindi doppia fatica Ma le storie hanno vinto lo stesso Per la comunità scientifica Per fortuna Abbiamo attratto Dei professionisti Che semplicemente hanno visto Con i risultati Su di se stessi O anche su persone care In particolar modo I primi medici Che si sono approcciati Hanno davvero avuto coraggio A approcciarsi alla nostra azienda Cinque anni fa Però poi Quando hai un risultato visibile Magari anche un risultato O tuo Di qualcuno A cui sei legato Non puoi fare orecchie da mercante Devi vedere Credere Hanno iniziato a lavorare con noi All'inizio Due o tre dottori Nei primi tre o quattro anni Per ritrovarci dopo cinque anni Con centinaia di medici A supporto di quello che facevamo Stiamo parlando di una Delle più grandi industrie del mondo Il rapporto che abbiamo col cibo È veramente importante E andiamo a toccare interessi Anche importanti Immagino che proprio anche Nella narrazione In quel lavoro che faccio io Da giornalista prima E da storyteller poi Non è facile far cambiare Il modo in cui viene comunicato il cibo Ma anche le diete in Italia Ecco Ci state provando a lavorare anche Su quel fronte? Certo Sempre di più Stiamo capendo che Oltre alla vendita Che chiaramente Quando abbiamo un prodotto Che aiuta le persone Ci sentiamo assolutamente giustificati Nel farlo Nello spingere Con un bello storytelling Ci stiamo comunque accorgendo che Serve educazione Quindi stiamo proprio facendo Un lavoro grande Sull'educazione Sulla cultura Sull'informare Recentemente usciamo da un evento Fatto lo scorso weekend Dove abbiamo passato Due giorni interi Online Sette ore A causa ovviamente Delle restrizioni Parlando proprio solo Di informazione scientifica Senza neanche tentare la vendita Perché vediamo che Quando le persone Vengono educate Senza scopi secondari Poi scelgono loro Di fare il primo passo Verso di noi Fra un po' Attraverso questa storia Toccherete con mano Come la vita di una persona Può cambiare Nei fatti Ma in maniera totale Partendo dalla condizione economica Ma anche dal fatto Che spesso la condizione economica Determina il tipo di lavoro Che fai E probabilmente Magari dentro Quel lavoro che fai Le scelte tue Non sono così tante Che va bene Però ecco quello che Fabio Con la sua storia Ci insegna Che evidentemente Si possono cambiare Queste cose E c'è il modo E il network marketing È uno di questi Poi il modo in cui lo fai L'abbiamo detto Fa la differenza Ecco Restiamo per un attimo ad oggi E cerchiamo di capire Come è cambiata la tua vita In termini di numeri Di stile di vita E poi invece Riavvolgiamo il nastro Per farvi capire Come siamo arrivati qui Beh oggi Piero La vita Non riesco a trovare Un aggettivo Per definire il cambiamento Che è avvenuto Anche perché è avvenuto Con metriche esponenziali Prima Magari Prima dell'intervista Parlava Condividevamo dei numeri Di esperienze comuni E quindi è avvenuto Con una velocità esponenziale Io mi sono trovato Per i primi due anni Di attività Ad essere lo stesso Fattorino di prima Senza risultati E nei successivi tre anni A fare dei milioni di euro E ovviamente La cosa che più Ci tengo a sottolineare È che se La tua mentalità Non segue La crescita del guadagno Alla fine Torni dove eri prima Invece Una cosa che riconosco Su me stesso È aver continuato A studiare A crescere A livello personale Di mentalità Sempre Per mantenere Anche quel livello Proprio di risultati E il peso Di certi risultati Ecco La cosa che Fabio Appena detto Sembra la più normale Del mondo Per i primi due anni Non ho guadagnato Quanto avrei voluto Probabilmente anche Molto poco Cifre distanti Da quello che poi È successo dopo Ma è Credo Fabio E questo Qui ti chiederei Di aprire una parentesi Forse il vero segreto Perché la realtà È che la maggior parte Delle persone Vogliamo dire 9 su 10 90 su 100 Non arrivano Alla fine Di quei due anni C'è quel periodo A zero Perché una curva Esponenziale Cresce proprio in questo modo C'è un periodo a zero E poi un tipping point Dove vai esponenziale In quel periodo a zero La maggior parte Delle persone Molla E questo dipende Dalle motivazioni Per cui fai Quello che fai Io sono stato disposto Ad andare oltre Quel periodo a zero E se oggi fosse ancora Quel periodo a zero Starei ancora lavorando Perché le mie motivazioni Erano troppo forti Per mollare Ed è triste Oggi vedere Anche dopo Aver fatto successo personale E averlo riversato Su migliaia di persone Come persone Con un grandissimo potenziale Mollano proprio Un secondo prima Eventualmente Dal loro successo Senti una delle sensazioni Che mi arriva di ritorno Rispetto al network marketing Che a volte Si possa costruire Su qualcosa Che non sia esattamente Molto stabile Dove il turnover Si ha E molto forte Ecco c'è un modo Un segreto Che con l'esperienza Si impara Perché poi A pensarci bene Non è che negli altri business Soprattutto oggi Siano così durevoli E si costruisce sempre Sul marmo E allora Nel network marketing Cosa fa la differenza Cos'è che Vi consente In effetti Di creare Qualcosa di più robusto Dove il turnover Comunque c'è Ma Avete delle contromisure Grazie della domanda Amo l'industria Del network marketing Ma sono molto Mi definisco un talebano Nella scelta Delle aziende Perché Abbiamo in mano La vita delle persone Se noi abbiamo avuto successo È semplicemente Per una filosofia di base Noi Facciamo tutto Dall'alto Nella nostra azienda Per la signora Maria Quando il sistema Funziona Per l'anello debole Allora tu hai Grandi possibilità Di avere qualcosa di solito Detto ciò Oggi con la tecnologia Abbiamo instaurato Dei sistemi tecnologici A volte la fase Di vendita Viene fatta addirittura Dal sistema Abbiamo imparato Anche se si mette Che tu puoi costruire Un sistema Efficace quanto vuoi Alcune persone Non lo useranno Ugualmente Quindi non sto dicendo Che esistono Sistemi O modalità Per far avere successo A tutti Questo ahimè Non è possibile Lo decide sempre la persona Un'altra cosa Che immagino Possa far finire Un bel sistema Una bella azienda È La capacità dell'azienda Di innovare Costantemente È a ritmo adeguato Il prodotto In questo caso Succede Come si muove La tua azienda Rispetto alla evoluzione Del prodotto Quando siamo partiti Abbiamo lavorato Per due anni Solo con un prodotto Perché le multinazionali Prima di darti fiducia Vogliono vedere i numeri Giustamente Quindi noi Abbiamo accettato la sfida E una volta che le vendite Sono cresciute Abbiamo ricevuto fiducia Dall'azienda Abbiamo fatto una strategia Insieme È assolutamente Prioritario Obbligatorio Per un'azienda Creare varietà Abbastanza di recente Quindi ogni 90 120 giorni 180 giorni Fare qualcosa di nuovo Che magari può essere Un lancio di un prodotto O il lancio di una promozione Ma è proprio un'industria Dove Che ha a che fare Con tanta tanta gente Quindi va sulla citata Di continuo In che modo Riesci a Convincere Le persone A lavorare con te In squadra Con te Beh È molto semplice Quando sei Quando sei Certo Che quello che fai È giusto Io sono assolutamente Convinto In ogni mia cellula Del DNA Che è giusto farlo Quando io ricevo Un no Ho sbagliato io Perché a livello proprio Oggettivo Di scelta È giusto avere un piano B Oggi Come quello Di una rendita extra Poi È chiaro che Ogni profilo personale Può arrivare A determinati livelli Con il tempo Tutti possono arrivare In alto Ma io lo farei fare A un imprenditore Di successo Lo farei fare A un disoccupato Lo farei fare A un dipendente Lo farei fare A tutti i profili Di persone Anche solo per quello Che impari Durante il processo Non accetto un no Io insegno ai miei ragazzi Non accettate un no Quando ti chiedono Che mestiere fai oggi Come rispondi? Non è facile Non è facile A volte Non avendo voglia Di andare in discussioni Evito A volte rispondo La verità Che è il networker Professionista Senti Adesso ti chiedo Di fare uno sforzo Davvero bestiale Perché in realtà Ho voluto che tu parlassi Un po' All'inizio di questo programma Che è una cosa È una modalità Che uso molto Nelle mie interviste Per far sentire lo scarto Ma qui è davvero più forte Rispetto anche Le altre storie di impresa Che pure Molte volte Mi impressionano E per la particolarità Di questa tua storia Ti chiedo di tornare Al fattorino E di tornare Alla testa Che avevi lì Al modo in cui Iniziava la tua giornata Cosa c'era dentro Quella giornata Perché solo così Possiamo capire Perché ti abbiamo appena sentito Anche i termini Che usi Il modo in cui racconti La determinazione È concreta Direi Nel modo in cui Dici tutto Credo sia arrivato Dall'altra parte Però ecco La bella notizia Di ricevere dei soldi Di essere pagati Solo in un modo Ecco È vero Io prima ero pagato Con un bonus unico Che era il bonus Del pagamento orario Oggi invece Mi ritrovo in un settore Con 18 bonus È proprio anche divertente Questa cosa qua E quell'unico tipo di bonus Mi pesava Nel senso che Facendo il fattorino Di traslochi Un grande desiderio Grande motivazione interne Quando tu hai Motivazione interne E inconsciamente sai Che quello che fai Non ti può portare lì Tu sei frustrato E quindi io mi svegliavo Con attitudini positivi Felice della vita Sempre Ma comunque Dentro di me Avevo questo senso Di frustrazione Perché sapevo Che non potevo Sdoppiarmi E fare due traslochi Per ottenere di più E sapevo anche Che a 32 anni Senza titolo di studio E senza esperienze Lavorative di livello Io non avevo Un'alternativa Ed ecco perché Quando è arrivata L'opportunità Ci ho dato subito Il valore massimo E pensavi comunque Prima ancora Che arrivasse l'opportunità Che facendo il fattorino Da qualche parte Potevi arrivare Sia pure in un altro modo Ti eri dato Comunque un piano Di possibile successo Anche partendo da lì Sì perché Una storia Ci deve essere sempre Dentro Altrimenti Si fa dura Quindi sì Ciocavo in nazionale Di calcio a San Marino Perché San Marino Siamo 20.000 persone Quindi bene o male Avevo un bel fisico Bello prestante E quindi ero in nazionale Di San Marino E la cosa bellissima È che La nazionale di San Marino Viene trattata come Tutte le altre squadre Di calcio Perché è uno stato a sé E quindi 6-7 volte l'anno Diventavo un professionista Per 48 ore Mi scontravo Contro squadre Come l'Italia L'Inghilterra E attribuivo a quello La possibilità eventuale Di fare qualcosa Ma il lunedì Dopo la partita Tornare a fare il fatturino Era sempre molto difficile Però attenzione Adesso hai detto una cosa Che io vedo Wow Cioè qui c'è un tuo segreto Mi piace indagarlo Il fatto che tu Giocavi in una nazionale Sia pure di uno stato piccolo Significa che in alcuni momenti Della tua vita Ti era concesso Di misurarti Con campioni veri Sì con eccellenze Con le eccellenze In Italia Per giocare in nazionale Non devi solo essere in Serie A Devi essere il più bravo Della Serie A E lì ho imparato A non mollare Eh Esattamente questo Cioè voglio dire Non capita a tutti i fattorini La domenica Di andare a giocare Con dei veri campioni Cioè Immagino che li guardavi Nel giocare Soprattutto provavi a cogliere qualcosa Ti ricordi la sensazione Che provavi nel vedere Il loro modo di muoversi in campo Mi ricordo aver giocato Contro l'Italia Contro la Svezia Di Zlatan Ibrahimovic Ed innanzitutto si capisce Che i professionisti Fanno un altro lavoro E che quello che tu pensi Che sia calcio Non è calcio E soprattutto Una grande stima Una grande onore E soprattutto anche quello Di rappresentare il proprio paese Anche se piccolo È comunque un driver interiore Che sviluppa in te Delle virtù Rare A mio avviso Poi parleremo anche di Roberto Re E quindi anche di Minset Perché lì stiamo andando a parare Credo che Roberto si stia divertendo Anche ascoltandoti Visto che Ha lavorato anche con te E però ti chiedo Ecco rispetto a questo Se notavi in quelle partite Della domenica Della domenica Così importanti Proprio l'atteggiamento Il diverso atteggiamento Del vero campione Se ha un modo Di muoversi nel campo Che fa già metà partita Quello che io notavo È innanzitutto La bravura Tecnica Di questi cyborg Che giocano a calcio Ed è veramente Troppo grande Il gap Che distingue Un amatore Da un professionista E io lì mi facevo Delle domande Quando devi iniziare Ad allenarti In termini di età Per diventare così Perché il gap Era proprio allucinante Finché uno non lo prova Non può capirlo E chiaramente La mentalità Che loro avevano in campo Di serietà Disciplina Era È stata scuola E poi tornavi Al furgone Alla giornata Alla consegna dei pacchi Che pensieri giravano Tra una consegna e l'altra Il lunedì era dura Il lunedì Dopo le partite Con la nazionale Quando alle sei e mezzo Ero in magazzino A piegare le coperte Per fare i traslochi Era dura E aveva un impatto emozionale Che a volte durava anche settimane A livello negativo E i pensieri Che giravano Tra una consegna e l'altra Erano proprio quelli Della possibilità Che comunque un giorno Quei palchi Li avrei solcati anch'io Penso che Non ce n'è forse Nemmeno una Di interviste Che io abbia fatto Dove Non c'è un'esperienza Da fattorino In questi imprenditori Sono poche Sì in qualche caso Ho incontrato anche Qualche figlio Di imprenditore importante Che magari ha avuto partite Ancora diverse Non è semplice Superare un padre Importante Un altro match C'è anche quello Ma spesso c'è un'esperienza Così dura Per questo vorrei che tu La raccontassi ancora La valorizzassi Cos'hai imparato lì Che davvero Secondo te è insostituibile Che in nessun'altra giornata Tipo avresti potuto imparare Che ti torna utile Ancora oggi Ma guarda Piero Quando Quando la tua squadra di calcio È formata da Facchini Avvocati Medici Magazzinieri E ti scontri a Wembley Davanti a 94.000 persone Contro l'Inghilterra Di Runei e Lampard Lì sicuramente Impari una cosa A. Che la partita Non si può fermare E che quindi 90 minuti Devi arrivare fino in fondo B. Che esiste qualche santo Perché comunque La partita potrebbe finire 45 a 0 Ma a volte Voglio dire Finita 5 6 a 0 Che è già una vittoria E soprattutto la cosa seria È che impari a dare tutto Semplicemente impari Che mollare non è un'opzione Un'altra cosa Che mi viene in mente Perché ti chiederei Perché non sei diventato Un calciatore In parte mi rispondo da solo Cose che non dovrei mai fare Ecco la lascio a te La risposta Anzi mi freno Perché ho incontrato tardi La crescita personale Con la mente di oggi Sarei stato un calciatore professionista Ottima risposta L'altra cosa Su cui volevo andare a parare Che mi incuriosisce Di questo tuo percorso È che ti mancava la squadra In senso lato Cioè che un campione Se anche un grande campione Però viene calato In una squadra Che non è Appunto l'Italia O l'Inghilterra Probabilmente gli manca Proprio anche quello Sì certamente Io sono legato tantissimo Alla nazionale di San Marino E a tutto il mio paese A livello calcistico Ha fatto tanto per me È indiscutibile però Che comunque noi siamo Il frutto del nostro ambiente Sia a livello di Standard Con cui ti paragoni ogni giorno Che a livello di Insegnamento Tu sei il frutto del tuo ambiente Quindi sono assolutamente D'accordo con te Fra un po' Ti porterò sul terreno Della formazione Perché vedremo come La storia di Fabio In questo senso Ha molto attinto Un po' istintivamente Poi ha incrociato in realtà Veri professionisti Che lo hanno aiutato E lo dico perché Nel nostro paese Spesso si sottovaluta Troppo questo aspetto In quello che poi deve essere Un normale cammino Verso il successo Ma restiamo ancora per un attimo Al momento in cui entri In questo nuovo settore Come lo incontri? È un pacco che ti capita Fra i pacchi? Probabilmente come Tutte le persone Vengo invitato a guardare Una presentazione Da una persona Che non conoscevo Neanche così tanto bene E dici subito di sì O sei scettico Come la maggior parte Delle persone Che viene invitato A eventi del genere? No, guardo subito Anche perché Era un periodo Dove avevo appena Avuto un figlio Quindi proprio questo desiderio Di volere di più Era diventato ormai Un pensiero quotidiano E quindi vai a vedere Questa cosa Che sensazione ne ricavi? A metà presentazione Decido Di partire E non finisco neanche Di vedere tutta la presentazione Sento proprio Che era qualcosa Che era per me E decido immediatamente Di partire Cos'è che ti colpisce In particolare Dentro quella presentazione? Ma mi colpisce Il fatto di poter avere Una rendita Un pagamento passivo Il network marketing Viene sempre definito A livello visivo Come questo insieme di persone Viene chiamato In termini tecnici Pallogramma Dai testi della Bocconi Sul network marketing È un insieme di pallini Che vengono rappresentati Dalle persone E il fatto di vedere Queste persone Che aumentavano E io poter avere Un guadagno passivo È una cosa che Mi ha tolto il sonno Da quel giorno In certi momenti Avrei bisogno di avere Roberto Gli chiederei adesso Subito in tempo reale Magari lo facciamo dopo Perché le persone Lo chiedo a te adesso Poi magari lo chiediamo a lui Che ce lo può spiegare Più tecnicamente Perché le persone Fanno così fatica Ad accettare In realtà La possibilità Di avere una rendita Che sembra scontato Ma è come Se non ci credessero Come se fosse un peccato mortale Nel nostro paese Parlare dell'idea Che a un certo punto Puoi guadagnare Anche senza Un lavoro diretto Sì Beh quello si scontra Con la nostra cultura Penso alla nostra storia Anche se comunque Un percorso di alfabetizzazione Finanziaria Sta avendo atto È innegabile La rete offre Infinite modalità Di formarsi Anche gratuitamente Quindi sta arrivando La rendita Nel network marketing È molto influenzata A mio avviso Proprio per il settore Probabilmente Io penso che Se gira un pregiudizio Su qualcosa Un fondo di verità C'è sempre Quindi Anche esplodere Come è stato fatto Questo tipo di lavoro In passato Probabilmente Sarebbe interessante Per capire Perché le persone Hanno un percepito Così oggi Il rischio più grande Rispetto alla rendita È che a un certo punto Ci si siede Sull'idea Che si lavora Solo in quel modo E si guadagna Solo in quel modo E che basta Quello che hai fatto Cosa che non succede Neanche al più grande Degli imprenditori Anche fuori dal network marketing Al mondo Esattamente Posso confermartelo Ho vissuto un periodo Dove mi bastava Dove speravo Che fosse per sempre E ovviamente Torno al concetto Di prima Di crescita Quindi quando Quando eccelli in qualcosa A mio avviso Poi devi sempre Fomentarti Addentrarti in nuove sfide Ed è quello che sto facendo Anche io personalmente Cercando di fare L'imprenditore Anche in altri modi E dove ancora Deve imparare Cosa fa di un network marketer Un network marketer Di successo Qual è la caratteristica Che noti di più Che tu stesso Ritieni di aver realizzato È semplice È una metrica Che si basa sulle persone Che hai portato al successo Perché arrivare Al successo personale È relativamente semplice E farlo per gli altri È molto difficile Come nell'impresa classica Cioè la qualità Della tua squadra Poi alla fine E della motivazione Che ha Fa la differenza Sì certamente E a volte devi credere Soprattutto qua Dove si lavora con tutti Perché non c'è Un cancello di ingresso E questo rende Il nostro lavoro Ad alti livelli Più difficile E devi comunque Credere prima tu Negli altri Rispetto a loro E guidarli E mentorizzarli Per un percorso di crescita Che non è per tutti E farlo con più persone Non è semplice Quindi quella è la metrica Che uso io Ho visto qualche video Prima di questa intervista Giusto per farmi un'idea E ti vedevo tradurre In uno di questi video In inglese C'era sul palco Credo uno dei leader Internazionali del progetto Non so a che livello fosse Chi era? Sì È il fondatore Al mio mentor Ah wow Il fondatore Sì sì Proprio il numero uno Quello che sta È americano? Americano Esattamente Che storia ha? Fattorino? Anche lui No Non è fattorino Ma storia molto simile E siamo molto collegati Io l'ho scelto come guida Come prima guida E l'ho proprio modellato in tutto Nel linguaggio Nei comportamenti Nella scelta della vettura E quindi è una storia molto interessante Quella Sì Li traduco lui E ovviamente Di fronte alle persone Che lavorano con me Ti ho fatto questa domanda Fabio Perché io sono convinto Che siamo ormai Da diversi anni Dentro una vera e propria Rivoluzione industriale Che è governata Da globale E digitale E riflettevo sul fatto Ma ti chiedo Conferma Che il network marketing È nativamente globale Da questo punto di vista È esattamente adatto Alla rivoluzione Che stiamo vivendo È liquido Non ci sono costi fissi Lavori in team E tutti remono Dalla stessa parte Sono tutti imprenditori Di se stesso Che mirano Verso un unico grande risultato E quindi è proprio Sì È adatto Mi sto accorgendo Proprio in questo momento Che sto cercando anche Di fomentarmi In altre sfide imprenditoriali Che come quello Non c'è niente Sono altamente convinto Soprattutto avendo visto altri In questo periodo Beh insomma Devo dire che Ha sempre un certo fascino Sentirlo dire Da chi ce l'ha fatta Ma da chi continua Evidentemente A muoversi dentro I rischi chiaramente Ci sono Sempre Anche quando Si raggiungono livelli Di successo Come il tuo Quali sono quelli Che tieni più presenti Allora Oggi Anche con la rete Quando raggiungi Un successo molto elevato E ti crei un brand personale Bene o male Sei al sicuro Anche se la sicurezza Non c'è mai al 100% Perché essendo Un settore Dove nascono molte aziende Tutti i giorni E sarà sempre di più così In futuro Bene o male Il tuo nome Ti fa una sorta di garanzia Per le persone Invece che iniziano Da zero C'è un unico rischio Che è quello del tempo Che è la valuta Più importante di tutte Ma in realtà Veri rischi Imprenditoriali Nel vero senso del termine Non ce ne sono Ed è proprio il motivo Per cui come dicevo prima Spingo chiunque Ad addentrarsi In questo mondo Dicevo poco fa Che ti aveva riportato Sul terreno della formazione Perché credo che Anche dentro questo mondo Se non ancora di più La formazione Sia una delle vere Discriminanti Ecco Quale formazione In qualche modo Hai scelto Quale ti ha premiato di più Grazie È molto collegata All'ultima domanda questa Perché Il fatto che dico Che non ci siano rischi Perché arriva a determinati livelli È perché comunque Quando arrivi a determinati livelli Appunto usando la metrica Delle persone Che hai portato al successo Hai generato delle skill Delle abilità Una mentalità Che non ti può togliere più nessuno E questo ovviamente Viene con la crescita personale Per me è stato È stato facile Relativamente Perché ho avuto Un grande mentore La persona di cui parlavamo prima E poi ho scoperto Roberto Ora in Italia Quindi con due guide così Se sei uno studente E dai voglia di crescere Non puoi fallire Valore aggiunto di Roberto Parliamone Visto che Perché parliamo di formazione È interessante anche ragionare Su alcuni dei nomi Di riferimento Della formazione italiana Perché anche qui Spesso poi Nel parlarci male dentro No Facciamo fatica Anche invece A riconoscere I punti di forza Che questo paese ha E tra questi c'è anche La capacità degli italiani Visto che abbiamo Come dire Veniamo dall'umanesimo Abbiamo tutta una storia Che va in questa direzione Ecco Dammi qualche elemento Concreto Di cosa Ha portato nella tua vita Roberto E come ti ha affiancato In questo risultato Sì Sono arrivato a conoscere Roberto Quando già guadagnavo bene Molto bene Superavo già le 10.000 euro al mese In questa industria qua Ma non crescevo più Ed era strano Perché passavo sempre più tempo A lavorare Diventavo sempre più bravo E non crescevo più Come ti accorgevi Che non crescevi più? Con i numeri Con i numeri Dai fatturati E dai guadagni Ero stallo E lo facevo sempre di più Lavoravo sempre di più E ovviamente Ad un certo punto Il tuo successo In questo settore Dipende dalla crescita degli altri E quindi ho conosciuto Roberto Proprio nel momento in cui Le mie skill Erano da proiettare sugli altri Quindi dovevo creare per me Per gli altri Scusami Quello che avevo creato per me E come sempre nella vita Tutto avviene per una ragione Il mio miglior amico Collega Mi porta a un suo corso E nel giro di un anno I miei risultati sono decuplicati Non raddoppiati Non triplicati Non quadruplicati Erano già molto alti Sono decuplicati in un anno E qual è la cosa quindi Più preziosa Che ti ha trasferito Roberto In questo affiancamento Innanzitutto un viaggio interiore Quindi ho tolto diverse Ancore personali Tante tante E soprattutto Mi ha dato degli occhiali Per capire i bisogni degli altri E non etichettare tutti Allo stesso modo Noi diamo per scontato Che se entriamo noi Per una ragione In questa industria qua Del network marketing Diamo per scontato Che tutti gli altri Entrino per lo stesso motivo Invece non è vero Non è vero Qualcuno entra per i soldi Qualcuno entra per la formazione Qualcuno entra per la community Qualcuno entra per il supporto E questa lezione Sui bisogni umani E poi su tutto il resto Comunque si tratta di 15 giorni di accademia In un anno Io ho capito Come poter aiutare gli altri davvero Come potermi fermare Senza bruciare un collaboratore Quando invece poter spingere Quando una persona non vuole È stata la chiave di volta La cosa che ha appena detto Fabio Mi fa venire un po' la pelle d'oca Perché in un modo tecnico Anche diverso Da come la racconto io Fabio sta dicendo Del perché poi oggi Si parla così tanto Di storytelling Che poi voglio dire È una tecnica Che evidentemente C'è da sempre Il nostro cervello È cablato Per imparare dalle storie E tu l'hai detto In un modo diverso Nel senso che Quello che ti ha insegnato Roberto È capire che punto Proprio perché Le storie sono diverse Bisogna ad ognuno Raccontarla in un modo diverso E per questo oggi Le storie raccontate bene Fanno la differenza Ti dico grazie Perché cerco di prendere Anche modi diversi Di raccontare gli stessi risultati E ne sto vedendo In tempo reale Uno che voglio girare Agli amici che ci seguono da casa Perché è utile Stare sulle storie Imparare dalle storie Come cerchiamo di fare al caffè Proprio perché sono molto diverse E perché potete trovare Quella che risuona di più in voi E fare la differenza E dammi qualche aneddoto Di qualcuna delle persone Che hai aiutato tu A trasformarsi In che modo l'hai fatto Uno anche molto diverso dall'altro Va bene Volentieri Piero E rischia di sembrare Quasi una barzelletta Perché la nostra azienda È nata da me Che sono un facchino Che ho arruolato Un fotografo Un bagnino E un barista Da farci un film E poi è arrivata l'avvocato Quindi sì esatto Sembra da farci un film Tra l'altro Il network marketing È una banca di storie Perché ognuno Ha una storia diversa Sia sul prodotto Che sul guadagno E quindi noi insegniamo Proprio a usare l'azienda Come banca di storie Da raccontare Quando una persona entra Non ce l'ha Utilizza quella dei colleghi E mi ricollega Al discorso delle storie Per quanto riguarda La crescita di persone In attività con me È davvero un'arte In effetti La mia sfida attuale È far fare Quello che ho fatto io Adesso Alle persone che lavorano con me Quindi Proiettare Il successo individuale Dei miei leader Sui loro leader Ed è davvero tosta Questa Perché Quando tu lavori L'hai appena detto tu Ognuno ha una storia diversa Un passato diverso Esperienze diverse Percezioni diversi Valori diversi E fare arrivare Tutte queste diversità Allo stesso obiettivo Secondo me È veramente un'arte È veramente un'arte Ci vuole tanta pazienza E a qualcuno Che magari ha bisogno Di essere il numero uno Di avere importanza Lo devi mettere sul piedistallo Ma allo stesso tempo Un'altra persona Con un'esperienza diversa Per portarla Allo stesso risultato Magari lo devi far stare Dietro le quinte E se tu Non sei informato Queste cose Non le sai E non ci arriverai mai Altra provocazione Com'è la moglie Di un network marketing Il bambino Di un network marketing La famiglia Di un network marketing Allora È diversa? Sì È assolutamente diversa I bambini soprattutto Poi la moglie lì Ci lavoriamo Ma i bambini sì I bambini sì È veramente Una benedizione Poter fare Un percorso Di network marketing Per anni Perché ovviamente Non per mesi O per giorni O settimane E poi avere L'opportunità Di rigirare Gli insegnamenti Di vita Sui bambini Io ho due figli E li sto Mentorizzando Da piccoli In modo che Abbiano il massimo Delle potenzialità Opportunità da grandi E mi rendo conto Che non facendolo Oppure paragonandolo Con l'infanzia Che ho avuto io Il potenziale Che si va a perdere Per quei bambini È enorme E ovviamente Per quanto riguarda Il nucleo familiare La moglie Ci dà modo A seconda della moglie Che abbiamo Di aiutarla Lo spieghi meglio Il termine Che hai usato poco fa Hai detto Mentorizzandoli Sì Il mentor È un riferimento È una È una tendenza È quella persona Che ti lascia sbagliare Appositamente Per poi darti la mano Prima che tu molli Non è sicuramente Una persona Che fa tutto per te Anzi Otterremo Il risultato contrario Però avere È una guida saggia Che comunque Ci tiene a te E sa i consigli giusti Da darti al momento giusto Per una tua crescita vera È impagabile È cambiato il papà Fattorino Rispetto al papà Network marketer Sì È cambiato molto Come è cambiato È cambiato nel Come parlo ai miei figli Nel che cosa gli dico Quando glielo dico È cambiato tutto È cambiato tutto E una delle motivazioni Che mi fa ancora andare avanti In questo lavoro qua È proprio quello Che ottengo in famiglia Perché i benefici Che vedo sui miei figli Continuando a esercitarmi In questa professione Sempre a livelli più alti È veramente incredibile Abbiamo toccato Un'altra parola chiave Su cui Roberto Ha scritto più di un libro Chissà quanti corsi E credo Continua ad essere il match Fra i match più importanti Della sua mission Cambiamento Che sembra semplice Sentita Da chi non a caso L'ha fatto Perché poi succede questo Invece molto complessa Come parola Da chi O non ci ha mai provato O ci ha provato Troppo poco Per vederlo Almeno una volta Il cambiamento E capire che è possibile Quel miglio prima Quel chilometro prima Quel mese prima Dei due anni Che sta per accadere Non è ancora accaduto Perché è così faticoso E fa accadere i più Facendoli tornare Addirittura ancora Di più Alle radici Questa volta Non in senso positivo Certo È molto È molto simpatico Che così tanta gente Resisti al cambiamento Quando è l'unica cosa certa Ed è il driver Motivazionale Più forte di tutti Qui imparo sempre Da Roberto Che insegna I sei bisogni E il bisogno di crescita È la ciliegina Sulla torta Rispetto a tutto il resto Quando noi cresciamo Ci sentiamo bene Sviluppiamo certi ormoni Siamo contenti Siamo felici E abbiamo proprio Uno stato d'animo Che cambia le cose Il fatto che la gente Lo ostacoli O non voglia andarci Attraverso Probabilmente è insito Nella natura umana Che viene a tutto accentuato Anche dall'ambiente Prima parlavamo Dell'ambiente Della squadra di calcio Parlando dell'ambiente nostro Che sono comunque Le istituzioni Barra la famiglia Barra i media Tutto quello che ci influenza Ogni giorno Sicuramente non ci Non ci danno una spinta A cambiare È per quello che insisto Quando chiudo Cerco di chiudere Una persona A farla entrare Nel network marketing Perché so che Se io spingo E lei riesce a fare Quel primo passo Gli si apre un potenziale Che però è sempre Sarà sempre Sua responsabilità Fabio andiamo un attimo In pubblicità Ringrazio il mio sponsor Umberto Gonnella Che è un'altra bella Sfida italiana Che prova a rispondere Qui questa volta Gli americani di Starbucks Perché anche qui Noi siamo bravissimi A fare le cose Peraltro il caffè Sappiamo La materia prima Non è italiana Ma gli italiani Come sempre Fanno meglio Quasi tutto Però facciamo fatica A distribuirlo E Umberto Ha lanciato questa sfida Interessante Oltre 100 negozi in Italia Sta aprendo all'estero Quindi è uno sponsor Che mi piace particolarmente Perché sposa molto Il concetto di valore E di crescita In termini di valore E anche delle sfide E anche delle sfide che contano 15 secondi di spot Poi ti chiedo Di darmi una tua riflessione Sul caffè Il tuo rapporto col caffè E magari perché no Qualche anche analogia Tra La ritualità Che c'è attorno al caffè E quella che c'è magari Nel tuo lavoro Grazie Grazie a tutti Eccoci di ritorno Allora il tuo rapporto col caffè Fabio Beh Piero Io ho la sveglia Di fianco alla macchinetta del caffè Perché ho capito Che deve esserci Un mantra mattutino E per me il caffè Lo amo il caffè Sono un fan Svegatato del caffè E la mattina Spengo la sveglia Di fianco al caffè E non torno nel letto Proprio perché mi faccio il caffè Non ho tutto il tempo Che vorrei Ma visto che partiamo Da un elemento di routine Che è un'altra cosa Che cambia un po' la vita Delle persone Se provano a A scriverla nel modo giusto E ce la racconti un po' In sintesi La tua routine Rispetto al quotidiano E magari In velocità Alla tua settimana tipo Perché immagino Che lì c'è tanta gente Che vuole diventare come te E vuole capire un po' Come la sua giornata Potrà essere Gestita e organizzata Allora L'importanza è massima Della routine Massima Non può essere casuale E quindi io ho tre cose principali Che faccio Durante Tutte le mattine La prima è quella del caffè Non sto scherzando È vera La seconda è quella Di portare i figli A scuola Tutti e due Ovviamente quando sono a casa E la terza è quella Di fare sport E poi dopo Inizio la mia giornata Quindi queste tre cose Per me sono fondamentali Una volta che hai vinto Ovviamente i figli Lo faccio per il cuore E lo sport Lo faccio per la sfida Per la challenge Per l'atteggiamento E una volta che sei stato sfidato E hai vinto le sfide sportive La mattina Poi tutto resta in discesa Rapporto con la tecnologia Dentro la routine Telefoni Tablet Computer Software A livello di lavoro Li utilizzo tanto Nella routine No Intenzionalmente La prima ora della mattina Cerco Quando posso Di non Di non Andare Sul cellulare Anche perché È dimostrato che Chi non riesce andare Da una stanza all'altra Senza il cellulare in mano Ha una vera e propria dipendenza Quindi La prima ora della mattina Cerco di Assentarmi da questo Abbiamo capito tanto Di questa storia Un altro pezzo Che spesso Ci dice tanto Dentro una storia E riavvolgere ancora di più Il nastro Andare a vedere Chi c'era prima In che famiglia sei nato E insomma E che cosa In qualche modo Ti è arrivato Da lì Chi era tuo padre Piuttosto che tua madre Sì Grazie per la domanda Mi fa molto piacere Ho preso Tanto da entrambi Da mia madre L'atteggiamento E quindi il fatto Di essere sorridente Con un atteggiamento positivo Me l'ha trasferito mia madre Da mio padre La mentalità imprenditoriale Perché mio papà L'ho perso Giovane A 16 anni Ha sempre fatto L'imprenditore A San Marino Ha avuto una grande azienda Di pulizie Nei servizi Con più di 100 dipendenti E quindi Ovviamente I discorsi Alla tavola Erano sempre legati All'imprenditoria Comunque Le possibilità Le opportunità E questa cosa Mi è rimasta Quindi questo È il mio passato Il fatto che fosse Un imprenditore Con 100 dipendenti Ha contribuito Nella prima fase A farti fare fatica Ad avere Quella mentalità La mentalità Me l'ha sviluppata Perché noi Appunto Tutte le conversazioni Che ho sentito A tavola Andavo nel camion Con lui Quindi Io ho sempre pensato In grande E questo me l'ha insegnato lui Ho resistito molto Infatti non a caso Per la prima volta L'imprenditore Lo faccio Nel network marketing Ho scelto Di fare il dipendente Prima perché Quello che mi ha insegnato lui Anche forse A livello inconscio L'ho collegato A qualcosa di non bello Lui è venuto a mancare A 50 anni E quindi ovviamente Io l'ho visto sempre lavorare Ha creato tanto per noi Però alla fine Io me lo ricordo poco Quindi avevi sviluppato Quasi l'idea Che fare l'imprenditore Può pregiudicare Anche la salute Assolutamente sì È quello che ho visto Quindi per me È vero quello Hai lavorato con Roberto Su cose di questo tipo Perché a volte Ecco anche qui La formazione Te lo chiedo Perché quando si parla Di formazione Si rimane spesso In superficie E si guarda Stiamo parlando di Roberto Re che tanti conoscono in Italia Lo vediamo sul palco Dire alcune cose Manca l'altro Roberto Che magari un giorno L'ho intervisto E glielo chiedo Quello che lavora Un po' più in profondità Che mi sembra invece C'è una cosa più interessante Sì Prima infatti Ho appunto detto Piero Percorso interiore E poi Ho imparato Come gestire gli altri Perché se non Risolviamo delle cose personali Non possiamo assolutamente Aiutare nessuno E io Questo è stato Il grande Beneficio Che ho avuto Durante l'Accademia di Roberto Il viaggio interiore Ovviamente Una gran parte di questo Era occupato Da questa esperienza Negativa che ho avuto Da ragazzino Però avendola risolta E lasciata andare Poi E poi è iniziato Tutto il bello Bene Una storia davvero forte Profonda Avete visto anche Nelle immagini Nel mentre abbiamo parlato Con Fabio Di che cosa oggi Fabio è Di che cosa sta realizzando Ma mi è piaciuto Rimanere un po' di più Anche in tutta la costruzione Proprio per farvi capire Che le storie di successo Non sono mai banali Sono una diversa dall'altra E la ricetta per il successo È qualcosa di complesso E ognuno deve sviluppare La sua Fabio ci ha aiutato Certamente in questo senso Mi dai un modello Di formazione Fabio A cui ti ispiri di più In questo momento Che ti sta particolarmente colpendo Qual è? Allora Ottima domanda Grazie Piero Noi nella nostra organizzazione Ovviamente la formazione La facciamo insieme a Roberto E quindi da un punto di vista Di crescita personale Quella Noi utilizziamo solamente cose Che hanno prima aiutato noi Quindi questo è un nostro valore Se funziona per me Può funzionare per gli altri Mi sto avvicinando sempre di più A quello che è un po' Una visione quantistica Della formazione Mi piace tantissimo Sto studiando tanto E quindi lì andiamo A un livello profondo E quindi insomma Però per ora È una scoperta mia Personale E poi vedrò eventualmente Di espanderla anche ad altri Mi ne devi parlare Perché io credo molto Negli incastri Nella risonanza Ultimamente nella mia vita Dico Non si incontra nessuno a caso Sembra un caso Invece non lo è Ma lo dico così In maniera leggera Distinto Quindi quando parli di queste Quando hai detto adesso questa cosa Dico forse un po' Centra Con questo mio pensiero Ricorrente Centra? Centra Jung ha dimostrato che nulla è causale Con la legge di sincronicità Quindi assolutamente centra Centra per questo incontro oggi Centra per i sì che ti arrivano nel network marketing Centra per tutto Certo Beh io ti ringrazio davvero di questa risposta Perché io ci credo davvero Italia Vale Che stiamo cercando di realizzare attraverso il caffè Parte da questo presupposto Io ho immaginato Poi chiederò una riflessione anche a Roberto In due chiacchiere che faremo Perché il suo lavoro in questa direzione è profondo Che anche i club Ne sono nati tanti in Italia Funzionano Intanto lo chiedo a te Una riflessione su questo Perché lo sto chiedendo ai miei ospiti Se Ci sono due condizioni La prima è che non devono essere numeri Persone che metti lì solo perché Stanno aderendo ad un progetto Ma li devi in qualche modo scegliere Devi fare un passaggio anche più lungo Quel concetto di squadra che dicevamo prima E la seconda cosa è che Se fai un Qualche circuito che si chiama Italia Vale Ci deve essere solo gente di valore Può dare valore e scambiare valore Ecco questa è un po' la sensazione So che è complicato Ma ci credo e penso che proprio questo meccanismo Di cui tu parli Di questa attrazione naturale Perché tutti i miei ospiti Stanno venendo da altri ospiti E ho capito che se cominci bene In questo senso Tutti gli ospiti che ti arrivano Mediamente hanno questo valore Ecco come la vedi questa modalità Perché ci stiamo lavorando E ci credo tanto Non voglio fare i numeri Del network marketing Però pensa a un bel club italiano Di 4-500 Tra professionisti e imprenditori Che si parlano E si aiutano a crescere Penso che si basi sulla visione di abbondanza Del fatto comunque che il valore vada condiviso Che di non aver paura di eventuali competitor Bravo esattamente E di racchiudere esperienze di valore Con un'intenzione sacra dietro Io penso che sia l'intenzione che conti Se l'intenzione è quella giusta Le cose succedono È dimostrato dalla fisica Guarda mi dai l'occasione Di ringraziare la seconda volta In questo programma Gianluca Lo Stimolo Che vedi quando Vabbè ci inseguiamo da tempo Fondamentalmente facciamo anche delle cose Anche vicine Perché lavoriamo in modalità diversa A quell'idea di personal branding Per cui il primo istinto italiano È quello di dire No ma è un concorrente Non lo puoi intervistare Esatto Invece nel momento stesso In cui ho detto sì invece Proprio perché è un competitor Vediamo cosa ha da aggiungere E da dire Rispetto a quello che dici anche tu E stanno nascendo incontri Come quelli di oggi Per cui lo ringrazio E ringrazio te Fabio Perché è stata una cavalcata incredibile Sono volati questi 50 minuti Non senza chiederti Ecco Prossimi obiettivi Altri sogni nel cassetto da realizzare Grandi Il primo è un libro Dove voglio cercare di dare la mia versione Della nostra industria E magari far cambiare idea a qualcuno E aiutare dei colleghi Perché come te Hai aperto le porte A competitor Tra virgolette Che è solo un'etichetta Che gli diamo Alla fine siamo tutto uno Anche questo è dimostrato Cercare di aiutare anche Dei colleghi con un libro Quindi credo in una visione Dove ogni azienda di network Dovrebbe supportarsi l'un l'altra E quindi questa è la mia prossima sfida Libro Senti prendo quella Quella favolosa frase Che dice che gli italiani Lo fanno meglio Anche il network marketing C'è una via Per dimostrarlo Forse oggi no Ma potremmo dimostrare Che c'è un modo italiano Di fare il network marketing meglio Oggi i numeri non ci danno ragione Su questa sentenza Magari Siamo noi che dobbiamo dimostrarlo Ci credo Ci credo assolutamente Bene Su questa grande scommessa Chiudiamo qui il caffè di oggi Chiaramente cercate il nome del mio ospite Su internet Troverete tanto del suo lavoro E magari si può aprire proprio lì Un'occasione per dare valore Alla vostra vita In fondo io provo a proporvi Caffè diversi Che sono ricette diverse Per il successo Non è detto che basterà Il sessantesimo Caffè o il centesimo Voi rimanete lì Provate Tornate E noi stiamo lavorando Anche con i nostri tecnici Per ragionare in termini di Ipertesti Tag Aiutarvi il più possibile A trovare parole chiave Dentro i nostri racconti E vi aspetto domani Per un nuovo caffè Con altre storie Che possano essere da stimolo Per le scelte Della vostra vita Grazie Fabio Grazie Piero Un piacere Grazie a tutti